Oltre 50.000 lettere arrivate nella cassetta delle posse di altrettanti cittadini. Si tratta di verbali di accertamento e contestazione relativi ad autocertificazioni errate, multe che vanno da qualche decina di euro sino ad arrivare a cifre decisamente più consistenti, sfiorando le migliaia di euro. A presentare conti è stata l'Asda Toscana Sudesta a coloro che si sono resi responsabili del mancato pagamento per le prestazioni ricevute, furbetti del ticket, ma non solo, almeno secondo la CGL, che si è attivata per sostenere chi ha deciso di fare ricorso, con il quale si chiede di annullare il verbale di contestazione e di archiviare il procedimento. Il reato è individuato dall'articolo 316 ter del Codice Penale, che prevede una sanzione amministrativa se l'agevolazione indebitamente ottenuta è inferiore a 3.999,39 euro, il carcere invece, almeno teoricamente, se è superiore. Sinceramente pensiamo che l'azienda sanitaria abbia esagerato, ha commentato il segretario provinciale della CGL, Alessandro Mugnai. Nessuno contesta, non dico la necessità, ma l'obbligo della pubblica amministrazione di contrastare evasioni di indebite e percezioni di erogazione, ma i casi che abbiamo in esame in CGL non avevano alcuna intenzione di arrecare danno allo Stato. L'Asla, aggiunto poi il presidente di FederConsumatori, Pietro Ferrari, avrebbe potuto utilizzare almeno un invito preliminare per un chiarimento da parte del cittadino interessato. Le lettere inviate sono quindi vessatorie e lo hanno confermato i ricorsi che abbiamo presentato sinora. Siamo ad una media di 7 accolti su 10. Secondo il direttore del patronato Inca, Giancarlo Gambineri, infine l'azione dell'Asla sta creando un grave impatto sociale. I più esposti sono pensionati, disoccupati e persone a basso reddito che dinnanzi alla contestazione di un reato penale non solo si spaventano, ma corrono subito a pagare pur di mettersi in regola. Per questo conclude e invitiamo anche chi ha già pagato a presentarsi agli uffici CGL per verificare la sua situazione.